Una sfilata molto particolare in presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, infatti in passerella con i vestiti dell'agente 007, eccolo lo state vedendo, qui il presidente Marsiglio appunto, agente 007, James Bond, vestiti prodotti e realizzati dall'Abrioni Roman Style di penne, indossando i panni di un modello d'eccezione al defile di Primavera 2023 al Palamoda d'Abruzzo di città Sant'Angelo, indossare i capi che hanno fatto il giro del mondo anche il deputato Guerino Tessa e il sindaco angolano Matteo Perazzetti. E nella sua passerella il presidente Marsiglio poi ha ringraziato per l'evento particolare, ricordando come l'Abrioni e anche le altre sartorie della nostra regione trovano la forza di rilanciarsi dopo il Covid ed esportare l'estro e l'eleganza in tutto il mondo.